ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi dopo aver visto le impostazioni controlle nel video precedente andiamo a trattare delle migliori impostazioni telecamera di fifa 22 ci tengo a fare una premessa su questo argomento perché sebbene è vero che oggi andremo a vedere come regolarla quali sono i migliori parametri quali sono le più utilizzate io vi dico che si tratta comunque di un'impostazione molto personale nel senso che dovete andare voi a tastare con mano quella che più vi si addice al vostro stile del gioco o a quello che il vostro gusto grafico io magari vi dirò che io utilizzo una certa principe un altro danni off un'altra ma non è detto che voi vi troviate con quelle quindi cercate sempre di sperimentare per vedere qual è quella più giusta per voi detto questo senza perdere ulteriore tempo direi di andare subito a vedere le impostazioni telecamera di fifa 22 e quando vi ritrovate all'interno del menu delle impostazioni di gioco questo è quello che avrete dinanzi a voi innanzitutto vedete che potete andare a settare diverse telecamere per le diverse modalità di gioco per cui abbiamo giocatore singolo multigiocatore la visuale giocatore nel momento in cui andate a fare la carriera la visuale pro club quando giocate 11 v 11 la visuale sul portiere quando controllate solo il portiere a pro club e poi abbiamo le impostazioni della visuale che cosa significa che non solo si può scegliere il tipo della telecamera ma si può andare anche al regolare secondo quella che è l'altezza e lo zoom due parametri importantissimi che vi andrò a spiegare successivamente come utilizzare la prima cosa che salta all'occhio è che quest'anno su fifa 22 next gen quindi ps5 e xbox serie x serie s è stato introdotto un nuovo tipo di telecamera ovvero gli e sports game cam gli sports game cam che praticamente una volta applicata si va a tradurre in una sorta di ripresa più televisiva vedete come sembra in qualche modo la partita ripresa dagli spalti da una telecamera in movimento che dà tanto realismo in più però onestamente a me sembra di essere un po fuori dalla partita oltre che questi continui cambiamenti di angolazione sono veramente molto molto fastidiosi quindi magari si può fare qualche partita secondo il mio modo di vedere giusto così per provarla ma poi va bellamente cambiata perché con questa penso che vi viene veramente il mal di mare dopo due tre minuti di gioco altrimenti andate sotto e sopra la successiva è tribuna stampa tribuna stampa è una visuale tanto utilizzata sia nel competitivo sia dalla maggior parte dei giocatori perché che cosa fa tribuna stampa come dice la parola appunto ci permette di poter avere una ripresa da quello che è la sezione stampa del dello stadio e vedete che siamo praticamente sopra al campo e in questo caso un po più angolati però è come se noi stessimo guardando così però non siamo lontanissimi dall'azione quindi vedete che i giocatori si vedono bene riuscite magari a fare i movimenti nello stretto le skill eccetera infatti questo è uno stile di gioco che si usa benissimo con giocatori abituati a fare questo tipo di movimenti movimenti che però su fifa 22 non sono premiatissimi e di conseguenza magari c'è qualcuno che passerà ad un altro tipo di visuale per cercare di sfruttare maggiormente le porzioni di campo in in larghezza in contropiede in particolare poi tribuna stampa viene personalizzata con un'altezza visuale di 20 e uno zoom di zero questo perché in maniera tale che siamo ancora più vicini all'azione e siamo ancora un pochino più in alto vedete qui come ci siamo avvicinati e come risulta più facile andare a controllare il giocatore nello stretto ripeto tanto utilizzata mi viene da dire magari da danno il film passato quest'anno è da vedere perché magari vedere le porzioni di campo può risultare più utile prossima visuale che andiamo ad analizzare dopo la tribuna stampa in questo caso è il campo largo campo largo diciamo che è un po la storia di fifa io ricordo che ogni volta che giocavo con i miei amici da casa utilizziamo campo largo campo largo è una sorta di tribuna stampa come potete vedere siamo molto vicini all'azione in questo caso e ci troviamo praticamente al centro come ripesa quindi è una specie di tribuna stampa però un po più centrata in questo caso anche qui solitamente si va a personalizzare il campo largo e si utilizza un'impostazione personalizzata con altezza 20 e zoom zero che praticamente produce questo effetto qui e anche questa visuale è stata spesso e volentieri utilizzata da giocatori che prediligono per lo più il possesso e le giocate nello stretto quindi magari quest'anno ribadisco anche campo largo potrebbe finire un po in sottotono dopo campo largo abbiamo la visuale coop che è quella per eccellenza preferita dai giocatori che amano vedere tutto il campo avere tutto sotto controllo vedete che abbiamo una visuale in questo caso molto centrata come il campo largo ma veramente alta io ancora qui non ho personalizzata e vi dico non l'ho ancora personalizzata perché anche questa è veramente tanto utilizzata con l'impostazione personalizzata 20 di altezza e zoom zero in questo caso praticamente sembra di guardare la partita da una mongolfiera però per chi fa tanto possesso palla per chi vuole sfruttare tutto il campo aperto per chi vuole guardare quelli che sono anche gli inserimenti avversari può tornare utile utilizzare questa visuale in particolare l'anno scorso era utilizzata da giocatori come caccia mi viene da dire e permette appunto di controllare tutta la situation infatti anche per coprire i filtranti è fondamentale perché magari vi parte un attaccante voi con sta visuale lo vedete prendete il giocatore e iniziate a correre verso indietro quindi io questa per quest'anno mi sento di consigliarla perché è molto molto completa come come visuale certo dovete un attimo abituarvi con quelli che sono magari gli interventi soprattutto difensivi per prendere bene il tempismo visto che siete più lontani la classica è un'altra visuale molto simpatica praticamente come se stesse guardando la partita non dico dalla panchina ma quasi e è una visuale che in passato ha utilizzato tantissimo il proprio inglese gorilla campione del mondo del 2017 che magari qualcuno di voi ricorderà e sembra in qualche modo essere una nuova predefinita e vi dico una nuova predefinita perché predefinita a mio modo di vedere è stata un po modificata dopo ne parliamo perché sapete bene che quella è la mia visuale per eccellenza e la visuale classica è utilizzata esattamente così come la vedete in questo caso senza personalizzazione onestamente a me non dispiace perché ci permette sia di poter vedere bene il campo in ampiezza sia di poter gestire bene la palla nello stretto quindi ho questa qui l'ho utilizzata nella beta di fifa 22 vi dico e mi ci sono trovato molto a mio agio quindi credo che probabilmente alternerò tra queste predefinita riproponendole entrambe e a proposito di predefinita dovrebbe essere proprio la prossima no prima c'è dinamica dinamica un'altra visuale che onestamente insieme a quella degli e sports game cam nuova di quest'anno è praticamente inutilizzabile siete in campo addosso ai giocatori che sembrano tutti quanti dei giganti non vedete niente questa per trollare fantastica questa questo tipo di visuale qui però onestamente vi fa venire anche questa qua il mal di testa eviterei di fare di fare partite intere guardate qui il campo praticamente non vedete nulla diventa diventa un massacro un autoscontro finite sempre contro i giocatori avversari perché non li vedete arrivare dopo la dinamica abbiamo la fondo campo questa che praticamente viene utilizzata per quelle che sono le modalità magari quando fate la carriera con il vostro giocatore singolo eccetera eccetera certo una modalità che non potete utilizzare quando controllate tutta la squadra perché impazzite la cosa bella è che magari c'è qualcuno di voi che le usa quindi mi fate sapere magari nei commenti se effettivamente qualcuno gioca con la dinamica con la fondo campo perché sono proprio curioso dopo la fondo campo un'altra delle vecchissime professionista che appunto fa sempre riferimento all'utilizzo di un giocatore solo fondamentale per quello che il pro club e la carriera del dell'uno v 11 abbiamo poi la televisiva che è come se forse di esports game cam ma più da vicino quindi praticamente possiamo dire che è una è la versione antica della nuova introdotta quest'anno da da iei e infine concludendo abbiamo la sempreverde predefinita predefinita con la quale io ho sempre giocato con la quale mi sono trovato sempre benissimo e come potete vedere una classica praticamente un po più alta c'è chi predefinita la gioca 20 zero ma io credo che il parametro migliore di predefinita sia appunto senza toccare nulla quindi con 10 di altezza e 10 di zoom vedete che vi permette di poter sia giocare nello stretto sia di poter osservare comunque ampie porzioni di campo per ripartire in contropiede fare i lonci lunghi filtranti coprire gli avversari questa è una delle più complete che secondo me insieme a campo largo tribuna stampa e co-op quest'anno sarà sicuramente tra le più utilizzabile comunque con uno sguardo anche alla alla visuale che vi dicevo prima in in precedenza che potrebbe tornare sicuramente molto 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 interessante qualora appunto si decidesse di utilizzarla quindi raga per quanto riguarda questo video è tutto io insomma ci tengo a sapere quali tipi di telecamera voi solitamente utilizzate vi ricordo che in descrizione trovate tutti quelli che sono i link sia del gruppo telegramma aperto a tutti sia di quelle che sono le live giornaliere sulla piattaforma viola quindi a me non resta altro che salutarvi un abbraccio e un salutone al vostro liberoschi statevi bene ragazzi ciao